Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata di Noob's Corner, la rubrica che facciamo sempre per mostrarvi qualche trucchetto, qualche guida e qualche consiglio per usare al meglio il vostro dispositivo iOS. In questa puntata andiamo a vedere come fare a contrassegnare tutti gli e-message come letti. Molto spesso capita che riceviamo tanti messaggi, tanti e-message, quindi sms e messaggi tramite il servizio di Apple e-message. Cosa possiamo fare per poter contrassegnarli tutti come letti? Bene, ci recheremo in messaggi e faremo una semplice operazione, ci recheremo su modifica e in basso a sinistra ci sarà l'opzione leggi tutti. In questo modo andremo ad annullare ogni tipo di badge, delle notifiche, comunque ogni pallino, ogni flag relativo al messaggio ancora non letto. In questo modo potremo liberarci dal problema di avere tantissimi messaggi visivi da leggere, tante notifiche eccetera e tanti numeretti a livello di badge sulla nostra applicazione dei messaggi. Così potremo poi andare a leggerli con calma dopo e liberarci immediatamente del problema. Va bene ragazzi, con questa puntata noi abbiamo terminato, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Questa è una rubrica molto breve, ve lo ripeto sempre, noi ci rivediamo con la prossima puntata settimana prossima per Noobs Corner. A presto! A presto!